Non è passato inosservato lo sciopero proclamato ieri dai dipendenti di piramide commerciale di Molfetta, il centro di distribuzione di Megamark, per chiedere a gran voce la revoca delle lettere di licenziamento per 46 operai sui 98 presenti in azienda a causa di una esternalizzazione delle attività di movimentazione merce. L'azienda ha voluto rispondere rapidamente a lavoratori e sindacati con una nota ufficiale in cui spiega le motivazioni alla base della decisione ed apre però a nuovi incontri con le organizzazioni sindacali per raggiungere un accordo condiviso. In particolare i vertici di piramide commerciale hanno spiegato come nell'ambito dei cambiamenti che stanno caratterizzando il mondo della distribuzione moderna l'azienda abbia abbandonato lo schema rigido della gestione diretta con propri dipendenti per affidarsi ad un partner terzo operante nel settore con il quale la ditta già collabora da oltre dieci anni. Da piramide commerciale spiegano come l'azienda voglia affrontare questo cambiamento tutelando però i propri lavoratori e per questo sin dal principio ha raggiunto un accordo quadro con il partner affinché tutti i lavoratori di Molfetta che già sono impiegati in questo settore fossero garantiti gli stessi diritti, lo stesso trattamento economico e normativo in essere. Agli stessi dipendenti ha spiegato sempre piramide commerciale e è stata prospettata un'immediata ricollocazione alle dipendenze del nuovo partner logistico con la stessa retribuzione lorda, la stessa anzianità di servizio e la stessa tipologia contrattuale. L'unica eccezione rispetto all'attuale condizione era quella della necessità di diventare soci lavoratori essendo la società partner in una cooperativa di lavoro. La proposta però non è stata accolta favorevolmente dai lavoratori e per questo, spiegano la piramide commerciale, si è reso necessario l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo riguardante proprio i 46 lavoratori a cui è stata rappresentata l'opportunità della continuità lavorativa. Ora si attende un nuovo incontro tra le parti affinché si trovi una soluzione condivisa alla vicenda.